Bene, direi al contrario. Proprio con le lettere. Z-no-r-fi-ta-l-su-ni-ro-i-zal. Ciao, benvenuti a Wild News, il nostro format per scoprire la natura. Che notizie abbiamo in primo piano oggi, Tommy? Ciao, Ginny. Per gli approfondimenti bestiali di oggi parleremo del cigno, l'animale più elegante sulla Terra. A quanto pare sono una tra le specie più fedeli sulla Terra. Quando trovano un compagno o una compagna restano insieme a loro per tutta la vita e sono molto, molto protettivi. Wow! E in più si baciano proprio come gli umani, usando il becco, e quando si baciano formano un cuore. Così. Bellissimo! Ma ora ti racconto io una curiosità. Hai mai sentito parlare del bombaggio dal naso peloso? Il von-che? È il protagonista della nostra rubrica Animali Fantastici, ma che esistono davvero. Si chiama Lasiorinus latifrons. Bene, direi al contrario. Latifrons lasiorinus. No, proprio con le lettere. Z-no-r-fi-ta-l-su-ni-ro-i-sale. Bene, andiamo avanti. È più noto come bombato dal naso peloso. È un piccolo mammifero che vive nell'Australia Meridionale. È lungo circa un metro e pesa tra 20 e 30 chili. È tipo un cane! Sì, la specie ervivora esaffre molto il caldo, per questo nelle ore di sole scava delle gallerie e esce di notte per cimarsi. Inoltre, il bombato è marsupiale, proprio come il canguro. Il problema è che sono a rischio di estinzione a causa delle scarse piogge nella loro regione. Però le autorità li stanno aiutando. Speriamo, mi sono molto simpatici questi bombati. Bene, amici, per oggi è tutto. Ci vediamo alla prossima edizione di Wild News. E ricordatevi, iscrivetevi e commentate. Ciao! 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 Grazie a tutti.